Cristo Regni, in un articolo del 21 febbraio 2022, il dottor Cionci prova a interpretare il discorso che Benedetto ha fatto per il 65esimo del suo sacerdozio e nel quale ha chiamato più volte, se non sbaglio tre volte, un Papa Francesco come Santo Padre. Ecco, allora appunto Cionci prova a spiegare, secondo la sua idea, perché appunto è stato chiamato Santo Padre da Benedetto. Ascoltiamo, io ovviamente non leggo tutto, leggo le parti. Allora, quindi lui dice, innanzitutto la sede era impedita, è falso perché l'abbiamo detto che non ha nessuna sede impedita, quindi già questo parte male il dottor Cionci, è falso, Benedetto non era in sede impedita. Quindi lui dice, si trova di fronte al suo impeditore, lo chiama Santo Padre e questo non ha nessun valore né canonico né testimoniale né indiziario. Come non ha nessun valore? Peraltro non c'era soltanto il Papa Francesco, c'erano tutti i cardinali intorno a lui. Chiamarlo Santo Padre, come tutti sanno, significa appunto indicare che lui è Papa. Se fosse stato un vero Papa Benedetto e quello fosse stato un antipapa, Benedetto ne avrebbe detto davanti, perché Benedetto è una persona seria. Invece il Benedetto che emerge dai testi di Cionci è una specie di papamolla, è un pusillanime che si nasconde di qua e di là pensando che la gente debba capire. Questo non è Benedetto, non per niente il dottor Cionci non ha mai conosciuto Benedetto XVI, quindi proprio è un inventore di favole. Quindi dice qui, appunto, potrebbe dice il dottor Cionci che il fatto che Benedetto abbia chiamato Santo Padre Papa Francesco è simile al modo di rivolgersi, modo con cui Benedetto potrebbe rivolgersi all'attuale Papa Teodoro II, Patriarca di Alessandria e d'Africa. Ma attenzione, riguardo a queste chiese scismatiche c'è tutto un lavoro di teologia che viene fatto prima, di preparazione. Poi tutti sanno che il Teodoro II è Papa ortodosso, quindi significa appunto, perché poi Papa significa padre, non è che, appunto, non dobbiamo rimare nel mistero, Papa significa padre. Quindi questo Papa Teodoro II era noto per essere il patriarca appunto, come dice qui, di Alessandria e d'Africa. Almeno io penso, qui mi appoggio a quello che dice Cionci, non vado a vedere, ma penso di questo, non ci dovrebbero essere difficoltà. Ma riguardo ad un antipapa, non ti puoi rivolgere a lui con il termine di Santo Padre, fargli obbedienza, dire che lui è successore, perché ovviamente è uno scandalo e tu stai sostenendo lo scandalo, sei un cooperatore del peccato altrui. Cooperi nel peccato altrui, invece di opporti, lo praticamente non fai altro che approvarlo. Oltre a questo, quindi Benedetto sarebbe praticamente uno scismatico a che approva un antipapa. Proprio assurdo. Perché cari fratelli, le parole sono quelle. Vedete, le parole di Benedetto non è che appunto, quando uno parla, i termini non è che, diciamo, per dire, io uso un termine, la gente lo intende secondo il significato normale. Se io chiamo uno Papa Francesco, dico che lui è Papa. Se io chiamo una persona Santo Padre, dico che è Santo Padre, ma appunto, quando io uso questi termini direttamente come Papa Benedetto, è chiaro che la gente che sente capisce quello che io dico direttamente. Sono termini, appunto, come detto, che indicano l'approvazione di Benedetto al Papato di Francesco, come tutti sanno e tutti hanno capito e tutto il mondo sa, tranne Cionci con i suoi seguaci, ma è chiaro, precisamente, il contrario. Cioè che appunto Benedetto accettava il Papato di Francesco, l'ha accettato dall'inizio fino alla fine e questo lo ha detto chiaramente il suo segretario, il suo segretario Genswein, lo disse già da prima, prima quando c'era ancora Benedetto, lo ha ripetuto più volte dicendo sia che le missioni di Benedetto sono lecite, dal mulus per essere, diciamo, in certo modo più preciso e comprensibile e poi ha detto che vero Papa è soltanto Francesco, Papa vero e legittimo e sono Francesco. Ecco, quindi non è vero niente di quello che dice qui, come si dice il dottor Cionci. Poi aggiunge addirittura, guardate che cosa dice? Gesù insegnava ad amare i propri nemici, passò la sua ultima cena con Giude e accettò da lui il bacio del tradimento, senza rimostranze, mite come un agnello sacrificale. Il suo vicario certo non può esimersi, è ovvio. Gesù non fece nessuna obbedienza ai suoi nemici, non obbedì. Gesù non si trovò di fronte ad un Papa scismatico, Papa scismatico usurpatore del soglio di Pietro, della sede apostolica. Quindi Gesù non ha mai detto di fare obbedienza ai falsi pastori, eccetera, e simili. Gesù ci chiama a fare obbedienza a Dio, ai legittimi pastori, ci chiama ad ascoltare la loro voce e appunto Gesù ci insegna ad essere chiari nel parlare. Gesù insegna ad essere chiari, in particolare proprio per evitare gli scandali, evitare di mettere le pecore in bocca al lupo, perché nel momento in cui tu sei Papa non puoi dire a uno scismatica, ad un Papa, ad un antipapa dire Santo Padre ti faccio obbedienza totale, è il mio successore, e poi incontrarlo con tutta questa affabilità. Perché è chiaro che il messaggio che fai passare è che tu stai cooperando con lui e che sei appunto favorevole, approvi tutto quello. Quindi, come ripeto, le affermazioni di Cionci sono scandalose, sono, come si dice, diffamatorie nei confronti di Papa Benetto che non avrebbe mai fatto questo. Era una persona molto seria, Benedetto. Questo bisogna ribadirlo molto fortemente.